Si spengono i riflettori sui giochi olimpici di Rio. Sotto un cielo minaccioso si è tenuta la spettacolare cerimonia di chiusura, a seguito della quale è in pratica calato il sipario sulla manifestazione. Con 8 ori e 28 medaglie complessive, positivo è il bilancio degli azzurri, il cui portabandiere è stato Daniele Lupo, vicecampione di beach volley. C'è stato uno spirito incredibile qui, afferma un tifoso canadese. È stato bello vedere la passione dei brasiliani nell'ospitare le gare, constatare entusiasmo, assistere alla loro vittoria nel calcio. È stato meraviglioso, ci siamo sentiti molto ben accolti. La zona olimpica è davvero ben progettata, dice invece un sostenitore di casa. Ogni parte con le proprie attività, l'arena è fantastica, qui tutto è incredibile. Da notare che i forti venti hanno causato problemi poco prima dell'avvio della cerimonia. Il maracanà è rimasto al buio per alcuni minuti, mentre danni si sono registrati al parco acquatico.